Pomeriggio 5 Pomeriggio 5, Albano e Loredana non si sono lasciati, sono solo in pausa Pomeriggio 5, nuove rivelazioni, Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati? Ecco cosa è successo. Oggi a Pomeriggio 5 si è tornato a parlare di una delle storie damore più discusse delle ultime settimane, quella tra Albano e Loredana Lecciso. I due si sono lasciati? Sono davvero in crisi? In studio, per l'occasione, è stato invitato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, giornale che qualche giorno fa ha diffuso le foto della discordia che avrebbero fatto arrabbiare l'Alecciso. Nel settimanale, infatti, sono state pubblicate alcune immagini di Albano e Romina Pomer dove i due, allegri e sorridenti, si mostravano insieme durante la loro tournée con in mano un enorme cuore di biscotto con scritto Ti amo in tedesco. Loredana Lascia Albano? No, il loro è solo un momento di pausa. A rivelare alcuni importanti retroscena della separazione tra Albano e Loredana Lecciso è stato proprio Riccardo Signoretti. Condo quest'ultimo, infatti, Loredana non avrebbe lasciato definitivamente Albano ma avrebbe solo preso un momento di pausa. Stanca delle continue pressioni mediatiche e delle frecciatine lanciate sui social e nelle varie interviste da Romina, secondo la versione del direttore, l'Alecciso starebbe attualmente valutando cosa fare. Non è escluso inoltre, aggiunge lo stesso poi, un ritorno imminente della stessa a casa, in Puglio. Attualmente, infatti, Loredana si troverebbe a casa del fratello ma, dice Signoretti, la decisione di separarsi da Albano non è definitiva. Albano, da Maurizio Costanzo il racconto del suo rapporto con Romina Pomer. A far molto parlare nelle ultime ore è stata anche l'intervista fatta ad Albano da Maurizio Costanzo. Il cantante di Cellino San Marco ieri sera, infatti, è finalmente tornato a parlare del rapporto che attualmente lo lega Romina Pomer. Con chi sei sposato mentalmente? Ha chiesto Costanzo all'amico pugliese. Chi immagina risposto quest'ultimo, lasciando a tutti libera interpretazione sulla risposta.